Il prossimo premio è Avvocato dell'Anno Data Protection e questo premio viene assegnato a Nadia Martini, Rodel & Partner, per l'expertise unica che ne fanno un autentico punto di riferimento nel delicato e sempre più strategico settore della gestione della privacy per i più importanti gruppi industriali italiani e multinazionali, per i track record ottenuti anche nel campo della cyber security e IP in generale e il ruolo in prima linea nello sviluppo della nuova service line di digital transformation dello studio. E noi abbiamo in collegamento naturalmente Nadia Martini, Partner, responsabile della practice di Data Protection in Italia. Buonasera e complimenti. Buonasera a tutti. Buonasera. Come commenta questa vittoria? Prima domanda per lei. Ci fa veramente piacere anche perché è un riconoscimento che si pone in linea con la fatica di questi anni. Più che per me direi che fa piacere tanto per i miei ragazzi, per un team che sta lavorando sodo per poter andare a rafforzare internamente le proprie competenze e anche a portarle sui clienti. Quindi è per loro senz'altro che questo è un riconoscimento, uno spunto e una spinta per fare un gioco di parole verso il futuro con un po' di ottimismo. Ecco che ci vuole direi. Ci vuole assolutamente. Allora è chiaro che il settore della Data Protection sta diventando sempre più importante e centrale proprio per tutto il tema legato allo smart working. Questa settimana noi abbiamo voluto appositamente dedicare i nostri focus e le nostre interviste e i nostri approfondimenti proprio su questo tema. Ma quali sono le buone prassi per mantenere alta la protezione dei dati? Questa è una bellissima domanda considerato anche il periodo che ci ha messo alla prova, ha messo noi tutti, anche i più digitali, alla prova con degli strumenti differenti e alle volte quando si è a casa a lavorare non si pensa di non essere a casa. Quindi non sai di non avere magari quei perimetrali di sicurezza che in ufficio avresti e non pensi che magari il familiare potrebbe comunque essere un disturbo, passatemi il termine, in un'ottica di protezione. Quindi sia per proteggere dati, ma anche penso al know-how e documenti riservati e quant'altro, in un'ottica anche di proprietà intellettuale, dobbiamo ricordarci che ci sono delle piccole regole per l'uso anche in un contesto di smart working. Quindi stiamo usando il nostro wifi, un cambiamento di password periodico può essere utile piuttosto che adottare delle misure di sicurezza, di protezione della riservatezza. Quindi ho il mio familiare, adotto un privacy mask magari per il pc che sto utilizzando oppure faccio in modo che le telefonate non siano condivise, non siano sentite per quanto sia chiaramente possibile in un'ottica familiare. Farò anche in modo magari di non utilizzare gli assistenti vocali che piacciono tanto ai nostri familiari, figli e anche a noi forse nel contesto della nostra giornata, perché sappiamo bene che possono andare ad ascoltare. E tanti sono i casi di attacchi proprio in questo senso che abbiamo avuto nel periodo del covid è quintuplicato il numero degli attacchi cyber security in questo contesto. Figuriamoci, quindi insomma non a caso abbiamo detto il settore della data protection che è diventato assolutamente prioritario, possiamo usare questa parola? È strategico userei, è veramente strategico ed è sinergico nel contesto della protezione, quindi se prima era un obbligo che era anche poco amato dalle aziende, comunque dai nostri clienti, adesso è diventato uno strumento per poter proteggere la reputazione prima di tutto, il valore economico dell'investimento, è cambiato tanto l'approccio. Senta, abbiamo letto nella motivazione poco fa che, insomma, qualcosa che la riguarda da vicino, quindi l'ultima domanda è proprio inerente a quelli che sono i suoi obiettivi. Lei è stata recentemente designata partner, si occupa proprio in prima linea dello sviluppo della nuova service line di digital transformation del suo studio, Rodel & Partner. I suoi obiettivi? Ecco qui la domanda, proprio guardando al futuro, in modo ottimistico, come dicevamo poco fa. Assolutamente, allora innanzitutto ringrazio lo studio perché comunque ha sempre creduto anche nell'innovazione, che non è una cosa per tutti, anzi pochi negli anni passati l'hanno compresa. Confermo, si è stata nominata partner ieri, quindi una nomina molto molto fresca. Ah, complimenti, no? Io sapevo che era una cosa proprio freschissima, ma non pensavo proprio che... Freschissima. Quindi diciamo che abbiamo dato in esclusiva a noi la notizia. Direi proprio di sì, alla stampa sicuramente. Ottimo. E certo, andiamo verso una trasformazione digitale importante. Lo vogliamo fare su di noi, lo vogliamo fare a supporto del cliente. Stiamo rafforzando, abbiamo già rafforzato il nostro team di data protection e cyber security, abbiamo un mondo di cyber sicurezza all'interno del nostro team, che ci aiuta nell'applicazione della cyber security ad ogni area di business, quindi non soltanto ai temi di diritto, ma a ogni area di business, dal food, dal fashion, all'health, sentivo parlare il collega precedentemente. L'idea è di andare a far sì di riuscire a fornire ai nostri clienti non soltanto la consulenza legale che deve rimanere la nostra priorità, il nostro top, chiaramente, ma anche un'assistenza tecnica e di risk management. E l'obiettivo è di andare a creare una governance, direi, sinergica, che parta, muova, impari dal GDPR, che è un po' la nostra mamma, anche come esperienza, diciamo, nella nostra practice, vada all'IP digitale e trovi nella cyber security il suo ingrediente, proprio lo strumento che permetta di rafforzare il valore dei nostri asset, dei nostri contenuti, dei nostri dati e quindi la nostra reputazione. Cioè l'obiettivo è il brand, alla fine, è dello strumento che dobbiamo essere in piedi. Sarà lunga, però. Beh, d'accordo, ma insomma, le cose che di solito nascono e si sviluppano in fretta non durano molto, almeno questa è un po' la regola generale, perché ci vuole lavoro, studio, insomma, quindi chiaramente ci vorrà un po' di tempo. Però se i presupposti sono questi, direi che è un buon punto di partenza. Peraltro io a questo punto dico, motivo in più per farle complimenti per questo riconoscimento, vista anche la recente nomina, insomma, e anche gli obiettivi che già ha messo sul tavolo. Quindi un in bocca al lupo anche, oltre ai complimenti da parte mia e da parte di tutto lo staff delle fonti. Grazie mille, direi che con un po' di entusiasmo e disciplina, speriamo di farcela e anzi ne siamo sicuri. Questo è il messaggio ideale per questo periodo, grazie. Grazie mille a Nadia Martini, partner, responsabile della practice di Data Protection in Italia per lo studio Road & Partner. Grazie mille e ancora buona serata a lei. Buon proseguimento. Buon proseguimento. Beh, direi che questo è un messaggio effettivamente perfetto per le conclusioni. Grazie mille. Grazie.